Bella ragazzi, bentornati su Call of Duty Modern Warfare Remastered Bentornati, non so com'è andato il primo episodio ma spero, pene, pene, spero pene, molto pene Burning Street, no, Burring Street, ok Scanning Nella missione precedente ci volevano affogare praticamente Veicolo vicino Veicolo vicino Continuate a cercare PAM, 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 PAM PAM, PAM, PAM PAM, 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 PAM PAM, PAM, PAM Supendo clever bella macchina nuova scusa non chiedo più mamma mia oh che faccia da merda che c'è ciao 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 ragazzi dove mi portate? eh? cambogia? eh però non ho portato il costume ragazzi ciao 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 cosa? cosa vuoi? che volete? ciao ciao anche te si ma aprite le finestre di cazzo c'è una puzza di merda eh si è stato tutto lusso cazzo guarda ma c'è il caffè cioè quel caffè lì è equilibrista come fa a non cadere? vabbè c'è un perro guacca boia è quasi più volaccio della macchina come guidi? schiacci sul pedale no? tanto siete terroristi anche se investite invece di sparagli è uguale ah ecco ah stagliare le gamine ente attaccato a te l'abbè change glasco change glasco ehm eeeh stagliare le yazar le yazar le yazar cosa vuol dire? minchia slalom con una mano è incredibile che giri la macchina adesso voglio vedere se gira il volante gira la macchina praticamente senza girare il volante è incredibile devi insegnarmi come si fa ancora lì c'è una pistola vediamo se qua lo gira bene si dai qua lo gira bene dai ok bravo bravo non c'è la marca della macchina eeeh eeeh e insomma quanto ci vuole? ciao ciao bel cane ciao cagnolino cagnolone nooo ecco hello stiamo andando in piscina vero? o al mare? al mare? in spiaggia chi è quel pelatone lì? mamma mia che brutto mamma mia la milizia come quella gente ha fatto con... lui è cosa? lui ragazzi è quello ah ecco caled al sad lui è quello di modo warfare uno ciao qui ce l'ho ecco buonanotte brutto fine brutto fine capitano prize al azad ha appena giustiziato il presidente al fulani in diretta nazionale gli americani hanno piani precisi per la sede e per al fulani ormai è troppo tardi tuttavia in poche ore l'uomo dal nome in codice nicolai verrà giustiziato in così nicolai signore nicolai è il nostro infiltrato tra gli ultranazionalisti ci ha fornito le informazioni per l'operazione mercantile ah nicolai nicolai è in pericolo lo tireremo fuori da lì noi ci prendiamo cura dei nostri amici andiamo va bene va bene signore i lealisti ci attendono 500 metri a nord muoviamoci lealisti eh si tratta dei russi buoni o di quelli cattivi non ci spareranno a vista se è quello che vuoi sapere beh direi che so già abbastanza uno in meno ah non si fotte com'è ottimo lavoro dovrebbe esserci qualche altro posto di guardia più avanti camera offesso ai uomini ci attenderanno uuuh vai documenti di intelligenza arrivo 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 yes però che falle intanto lo tolgo un attimo mi da fastidio basta devo rimetterlo là ce n'è uno eh bersaglio neutralizzato ok eh sono bravo quindi che si fa si va su qua capitano Price lo senti gas si stanno sparando FT benvenuti nella nuova russia capitano Price che è il bersaglio Kamarov dobbiamo recuperare un informatore gli ultranazionalisti hanno dei bm 21 sull'altro lato della colina hanno ucciso centinaia di civili a valle con il loro razzo non così in fretta ricorda Beirut lei viene con noi immagino che sono in abito con voi senza alcun dubbio Vabbè posso toglierli no? Posso sparare? Ragazzi ma sono troppo avanti per voi? Eh cazzo muovetevi Tutt'è lenti come la fama Zì signore, zì padrone Dimmi Inizia l'attacco Ma posso sparare? Ok sì Vai vai Cosa che darmi un Un cicchino del catto In basso a ore 10 Ah ok Eh non riesco a prendere tutti Ok Dobbiamo proteggere i miei uomini Andiamo a proteggere i miei uomini Faccia in fretta Cameron Voglio il mio informatore Non deve preoccuparsi di nulla Elimineremo i BM21 e libereremo la via per raggiungere l'informatore Ok I'm pronto Oh eh che calcio supersonico Cosa stai dicendo eh? Ah di qua Signore abbiamo compagnia Elicotteri in avvicinamento rapido Dovremmo farlo parlare con la ponte Ah il lancia granate ok Oh 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 Godo Mi sta bene Godo Fatti Ci sono tutti Chi spara ancora? Chi c'è ancora? Ah Questi Citano Price Gli uomini sono ralentati da un'aspera resistenza Mi aiuti a supportarli dalle scogliere E il nostro informatore? Non c'è più tempo Ahia Ahia Chi è? Chi è? Chi era che mi feriva là sopra? Perché mi tolgo sta cazzo di cosa? Mi dà fastidio Ma come si fa? Ok Hey Wow Centro guys Hey Ah questi sono amici Giusto orsi Basta non c'è più nessuno mi sembra Ah c'è ancora gente Quindi? Basta? Ma questi sono amici? No Allora? Bene Stiamo facendo progressi Seguitemi verso la centrale Eseguidemi Ok arrivo Beh beccatevi sta granata del cazzo Qualcuno qua mi aveva ferito Hello Hello Eh Vai 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 Botte 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 La casa nell'area nord est del villaggio Beh non è stato così difficile vero? Ah no Amico So Raggiungiamo la casa prima che accada qualcosa all'informatore Andiamo Ah togliete il cazzo Ok capitano Mio capitano Vai 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 Bye Sono alleati questi Oh mamma mia Come sparate A est Oh Ehi Giochiamo a nascondino Scemoniti Oh mamma Sto morendo Ok Questi sono le arti Eh Io mi sto muovendo No non è questo Io sono sul retro E dov'è il retro? Scusami un attimo Ah ci deve andare gas Ok Vai Andiamo andiamo Victor Electricist Con il visore notturno E un gioco da ragazzi Odice tu Ok Qua non ce ne sono Da dietro Mamma mi hanno salvato il culo Il fatto che qua c'era un Mi ricordo che c'era un coso Ah no è un Nicolai questo Nicolai Ehi signore Stuvia Stuvia Stuve ragazzi Stui bene Riesci a camminare Sì E posso anche combattere Grazie per avermi salvato Cazzo Ok ok Stuve stuve Arrivo, arrivo Non mi fa salire Devo aspettare Ok Uh, gioco da ragazzi Ok Bene ragazzi Anche questo let's play è finito Spero vi sia piaciuto E come sempre Non si fotte con Tomasturbato Ciao